La Toscana è il miglior posto in Italia, lo sanno tutti, ci dice questa turista mentre passeggia in Piazza Grande ad Arezzo. La città di Piero della Francesca è sempre più scelta come meta turistica per ciò che può offrire, ma anche per la strategica posizione geografica ad un passo da Firenze e da Siena. Diciamo che quest'anno c'è stato un incremento rispetto agli anni scorsi, ovviamente 14 e 15 sono delle giornate più da mare che non da centri storici, però diciamo che si sta incrementando sempre di più, ma sono un po' da ovunque, sia a livello europeo che anche italiano. E sono turisti che soggiornano più giorni o è un mordi e fuggi? No, ci sono turisti che soggiornano anche più notti, sì sì, che magari scelgono Arezzo, che poi da qui si muovono e vanno anche a visitare altre città. La Toscana si conferma comunque regina del turismo d'agosto. Dopo i dati positivi dei primi cinque mesi del 2018, le settimane centrali di agosto vanno verso il tutto esaurito secondo le stime di confesercenti regionale. Le indicazioni emergono dall'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze da un campione di 827 imprese e i risultati migliori si registrano proprio nella settimana centrale, in particolare nel ponte di Ferragosto.